Lo sapete che per ogni dollaro investito in salute mentale nei luoghi di lavoro la produttività aumenta di 4 dollari oltre ad avere un impatto positivo in termini di qualità delle relazioni e di minore conflittualità. Per questo è importantissimo promuovere il benessere mentale delle persone all'interno dei luoghi di lavoro e come giovani imprenditori insieme ad ATS Brescia Recovery Net abbiamo organizzato una serie di incontri online destinati proprio ad affrontare questo argomento. Ovviamente il focus sarà sugli effetti di lockdown, della pandemia covid, sulle persone e come gestire gli aspetti legati alla salute mentale attraverso la conoscenza del modello delle 5 vie del benessere che è un modello che è già stato implementato in alcune aziende e ha avuto esiti positivi. In sostanza ci saranno due incontri, il primo è previsto il 16 luglio riservato all'azienda VHP, ai responsabili dei risorse umane e alla rete ATS. Il secondo invece il 28 luglio è aperto al pubblico, vi potete iscrivere sul sito di EB e il professor Lucchi che è appunto uno degli ideatori di questo programma ci dettaglierà i contenuti dello stesso e come possiamo avere impatti positivi e fare la differenza a questo punto di vista. Grazie.